vi ricordate cos'è questo? questo qua è il pezzo di cera che ho preso nel mio tragitto a roma e oggi ci volevo fare una candela quello che ci serve è la cera, che la taglieremo un po' e un pochino d'acqua non l'ho mai fatta quindi non so come farà sembra un po' di fare la zuppa come sfregola ma è buono dai gas, gas, gas oh meno gas, meno gas, meno gas ah ah ho scottato la gamba bisogna unirsi per la ricetta medievale di uno spago, un mestolo, un recipiente, fuoco, cera e acqua in teoria prendere la cera ma che faccio? ma è impressionante, non si toglie come la cera normale, questo mi rimane devo portare una modifica al mestolo così sono più preciso così sono più preciso tutto a quel simile di testa ragazzi ah sto facendo la ceretta sto facendo la ceretta ma ciao ma ciao ma ciao ma ciao ma ciao Nooo! Poi che c'eres, muchacho? La gente, no? Eh? No, no! C'er... 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 Ah! C'er... Mamma! Una candela! Devi pulire tutto! No, Davide, devi pulire tutto! Di tutte le cose che devi fare, devi fare una candela! Sì, mamma! Dopo aver praticamente... Ora portiamo questo fogotto, un attimo in congelatore, mentre io pulisco perché devo pulire! Eccola! Sì! Prima me l'hai fatta cadere! Cattiva! Cattiva! Questi cosi neri potevo toglierli! Potevo filtrare la cera, però preferito lasciarli perché mi piace così come l'ho trovata! Sì! E niente ragazzi! Alla prossima! Cattiva! Sì! Cattiva! Cattiva! Grazie a tutti